Ciao Nina Ciao Nina Oh Dio, lo ho perso Oh Dio, ho trovato qualcuno, da questa parte Sveglia, macchinazione alzato Qualcuno sa come uscire? Troviamolo, i prossimi saremo noi, capito? Lasciatelo qui, sparpagliate che trovate Batman Aspetta, aspetta, vengo con te Forza, trovatelo E' solo una vecchia stanza piena di libri Che cosa potete che sia? E' solo una vecchia stanza piena di libri Io ho assegnato un paio di compiti facili, far parlare cash e trovare la dottoressa Young con i suoi appunti, qualcuno ha almeno provato a portarli a perdite. E' un paio di compiti facili. 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 Grazie.